Ciao a tutti ragazzi YouTube, come state? Allora, io sono Tato e io Mimmi E allora, grazie mille a tutte quelle persone che hanno visto l'altra volta il video precedente Delle domande challenge, così almeno abbiamo soprannominato E grazie alla persona che ha messo un mi piace Un applauso, grazie Vabbè, a parte scherzi Allora, quello che proponiamo oggi è un altro video È su, diciamo, diverso da quello della volta precedente Su Dubsmash Vari, diciamo, compilation che dura poco, diciamo Adesso ci troviamo un po' più impreparati E appunto dobbiamo prendere mano E quindi niente Ma solo grazie a loro, come lo potremmo fare? Dico, solo grazie a loro lo potremmo fare Appunto, quindi mi raccomando Mettete, se volete, like O seguiteci dal canale Seguiteci su Instagram, che lo metteremo verso la fine I nostri nomi Quindi fate quello che volete Potete anche non vedere il video, se volete È uguale Quindi, buona missione Mi raccomando, pop corn Osservate bene Ma video messaggio per tutti quelli che guardano YouTube Stronzi e bastardi Sono un serpente velenoso oggi Sono Con questo finisco il mio messaggio Sono proprio amareggiata E esigo delle scuse da tutta Italia Salagadula Mencicabula Bibbidi Bobbidi Buu Fa la magia Tutto quel che vuoi tu Bibbidi Bobbidi Buu Dobbiemmo Eh, Dory Trouvarmi il suo figlio Ma cosa fai? Ma cosa fai? Ma sei sicura di conoscere il balenese? Cos'è? Cos'è? Ma che colore è? Cos'è? Col blanco intorno a me Cos'è? Io non l'ho visto mai Starò sognando in guardia C'è Ma cos'è? Cos'è? Io so perché tu sei un maschio Che? Lo sai? Per la pelata Ah, sì Ma poi adesso mi sorge anche un dubbio Pelata da che? Eh, vabbè, ma Mi servivi per far Quel verso della pelata Se non sei pelato Ho beato te Ringrazio a Dio Continuiamo a vedere Nonna Nonna Ma hanno fatto un buono Che vuol dire? Vuol dire che Che te la vinte il culo Cioè, mi venne quasi spontaneo in ginocchiarmi Per fargli questa domanda Cioè Maestro, che cosa vuoi che io faccio per te? E lui rispose Love, love, love Affanculo! Affanculo! V-A-F-F In culo! Peghiamo nerci pulla Perché serve più Ve faccio piangere! Mamma, esco! E dove vai? A mangiarmi la merda! L'insulto che do sempre a Matteo A proposito del video Magna la merda! Oppure figlio della merda! Però Matteo ha fatto benissimo quel video Mi è piaciuto tantissimo Fatate Grazie Vai! Che facete voi? Io sono a casa Lavoro Zappo A vigna E... Sono Un carino Ragazzo Senza te non forza sta perché non mi appartiene Perché mi piace tu Io invece Ce l'ho pelosa Che cazzo di domande sono Prima di tutto Che lo vengo a dire Che tanto almeno al popolo di YouTube E secondo Ma c'avevo una tetta fuori gioco Scusa ma che vai a mettere? Vabbè la ventinantissima A parte che tetta Ma lo vada di Non c'ho niente E' imbottitura L'abbò Ti inquadri Continuiamo Oh 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 Hello papaghena Tu l'hai bella con la papaya Sorrita sempre ciao Andiamo con il prossimo video Noi siamo le muse Dee delle arti E proclamatrici di eroi Eroi come Ercole Tesoro vuoi dire maschile Devi ammettere però che ho una bellissima voce Mi hai seguito Ti ripropongo la foto di prima A proposito di quella foto No ormai l'ho vista Sappi che adesso è una guerra aperta eh E tanto tu non puoi fare niente Non ti preoccupare Con il telefonino tuo non puoi fare niente Non ti preoccupare Non ti preoccupare Figlio della merda Figlio della merda Allora dopo di questi ci saranno altri due video Anzi no quattro video Mi sembra E abbiamo fatto diciamo il replay Perché siccome gli ultimi due Per invertirci i ruoli Siccome gli ultimi due erano Noi erano proprio fatta Noi erano proprio a ride A ride quindi Speriamo insomma di Aver colto anche Divertimento a voi Lui era una gran bellissima Ma proprio una rarità Lui era una gran bellissima Ma proprio una rarità E volevo cambiare nome Perché soffrivi Mi sentivo sbeffeggiare E allora che facevi Cominciava a scorrere No Bumba non davanti ai bambini Oh scusa E volevo cambiare nome Perché soffrivi Mi sentivo sbeffeggiare E allora che facevi Cominciava a scorrere No Bumba non davanti ai bambini Oh scusa Secondo me partite Con il ruolo di Bumba Ci sta appennendo Che cosa vuoi intuire? Allora E E E E E E Allora Calma Io interpreto Bumba Perché so una Boa Cioè fisicamente Sono bua Quindi mi Rientro Perfettamente Nel ruolo di Bumba E tu fai Timon Si Si Cominciava a scorrere No Bumba Non davanti ai bambini Scusa Scusate Scusate Va bene ragazzi Speriamo che il video Insomma Mi sia piaciuto E Ripeto Se volete mettere like Commenti Seguiteci su Instagram Iscrivete al canale Fate quello che volete Potete anche Ripeto Non vederli Quello che volete Insomma E però Spero di avervi fatto divertire Quindi Io vi saluto Vi salutiamo Insomma Da Tato E Mimmi Al prossimo video Ciao 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 Ciao